Facci il nome, Buscetta. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima? Lei è lui. Io rinnego questo nome. Io rinnego Tommaso Buscetta. Non ci sono toccabili. Non mi fraintendo, ma ho più paura dello Stato che della mafia. Onneto! Non sei stato! Onneto! Io sono stato, del resto, un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Kozanovski. E questo, io non mi considero un pentito. loro sono stati messaggi. Qui hanno il regno? Che lo scrivelo, beverly e donno!